Il 2 dicembre riapre il micronido a Teramo. Il contratto è già sottoscritto fra il comune e la media hospice che è la giudicataria e la prossima settimana ci sarà appunto la presentazione, loro stanno anche del luogo, stanno allestendo nel migliore dei modi per presentare una struttura all'avanguardia, adeguata, con arredi nuovi, hanno pensato anche di fare un angolo lettura 0-3 e quindi per cercare di offrire qualcosa di diverso alla città. Ho chiesto anche di fare un'offerta diversificata, molto flessibile e ho proposto loro anche di fare un'apertura serale il sabato sera, quindi vediamo se possiamo introdurre un po' il metodo finlandese a Teramo pian piano. Stanno lavorando, adesso sono già all'interno e possiamo annunciare che sono aperte le iscrizioni ufficialmente, e i genitori possono raggiungere la struttura in loco, quindi possono andare in loco ogni mattina dalle 9 alle 13 per parlare con gli operatori e per sottoscrivere l'iscrizione. Il micronido riapre con un po' di ritardo rispetto al passato e anche portandosi dietro una scia di polemiche. Sì, purtroppo non è stata volontà dell'amministrazione, il bando di gara che continuava l'esternalizzazione che era stata scelta in passato è partito ad aprile con tutto il tempo necessario per riaprire a settembre. Purtroppo la gara non è andata deserta, in prima battuta la procedura negoziata è andata deserta in seconda battuta, a quel punto bisognava decidere o di chiudere la struttura oppure di fare una scelta diversa che abbiamo voluto fare per quest'anno, ovvero ritornare a una gestione mista, la cosiddetta compartecipazione del Comune. Abbiamo dovuto reperire circa 40.000 euro, mi sembra, all'incirca 40.000 euro per tornare in compartecipazione e riaffidare il servizio, altrimenti il servizio era rimasto, appunto la gara era andata deserta. Quindi abbiamo voluto comunque mantenere questa struttura aperta perché ritengo che sia una struttura che è localizzata, si trova in un luogo molto felice che è il Parco Fluviale e quindi vale la pena mantenerla aperta. Ci sono state anche sollecitazioni utili, sollecitazioni da parte della minoranza, del consigliere Fracassa che ha più volte chiesto conto della struttura e quindi abbiamo comunque anche con loro gli ottenuti aggiornati e abbiamo deciso di mantenerla aperta perché pensiamo che avere una sesta struttura, in questo caso in compartecipazione, sia comunque qualcosa in più per la città.